oggi è il 26 marzo 1827 muore ludwig van beethoven 1980 muore erminio macario 2000 giovanni paolo ii chiede perdono per i peccati contro gli ebrei commenta il fatto del giorno maurizio molinari direttore della repubblica oggi ho scelto di parlare del giorno più importante di guglielmo marconi grazie a tutti